medaglia d'oro nel nuoto per carlotta gilli e stefano raimondi medaglia d'oro nel nuoto per carlotta gilli e stefano raimondi medaglia d'oro nel nuoto per carlotta gilli e stefano raimondi in un momento splendente per il nuoto italiano carlotta gilli e stefano raimondi hanno vinto medaglie d'oro nelle loro rispettive discipline ai campionati internazionali di quest'anno mentre Gilli ha partecipato nella categoria delle nuotatrici non vedenti, Raimondi ha brillato nella sua classe di nuotatori aperti. Carlotta Gilli, già nota a livello internazionale per le sue prestazioni impressionanti, ha gareggiato in diverse competizioni ottenendo risultati eccellenti. Ieri sti ubersetzung des textes auf Italienisch. Nai Colloqui ha sottolineato l'importanza della sua partecipazione e del supporto del suo team. Secondo lei, tale riconoscimento non è solo una ricompensa per l'impegno individuale, ma anche un riconoscimento dell'intero team dietro gli atleti. Gilli ha dichiarato di essersi sempre preparata per le sue prossime gare, per dare il massimo di sé. Stefano Raimondi, che negli ultimi anni ha dimostrato prestazioni costantemente elevate, ha anche mostrato la sua forma eccezionale. Ha parlato di un obiettivo chiaro in mente e dell'allenamento instancabile che gli ha permesso di raggiungere questi successi. Raimondi ha considerato questa medaglia come la coronazione dei suoi sforzi ed era visibilmente orgoglioso di essere sul gradino più alto del podio. Dies könnte auch Auswirkungen auf die nächsten Wettkämpfe haben, da er nun als einer der Favoriten gilt. Die Erfolge von Gilli und Raimondi sind nicht nur für die Athleten selbst bedeutend, sondern auch für den italienischen Schwimmsport im Allgemeinen. Beide Sportler haben in der Vergangenheit in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und gezeigt, dass sie in der Lage sind, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime competizioni, poiché ora è considerato uno dei favoriti. I successi di Gilli e Raimondi sono significativi non solo per gli atleti stessi, ma anche per il nuoto italiano in generale. Entrambi gli sportivi hanno accumulato esperienze in diverse competizioni in passato e hanno dimostrato di essere in grado di competere ai massimi livelli. Gilli è anche un'ispirazione per molti giovani nuotatori che possono identificarsi con le sue sfide. La sua determinazione e la sua perseveranza sono caratteristiche che le guadagnano rispetto in tutta la comunità sportiva. In passato, entrambi gli atleti sono stati sempre pronti per la competizione più intensa. Gilli ha avuto l'opportunità di confrontarsi con avversari internazionali in diverse competizioni, il che l'ha portata a crescere ulteriormente. Secondo lei, lo scambio con altri atleti, le cui metodologie di allenamento e strategie possono offrire un'esperienza preziosa, può essere utile per le future competizioni. Raimondi ha concordato, aggiungendo che spesso trae insegnamento dai successi di altri corridori, il che lo motiva a migliorarsi continuamente. I medagliati di quest'anno dimostrano chiaramente che il nuovo italiano è sulla buona strada e ha molti talenti che probabilmente festeggeranno sucessi in futuro. Ihr Selbstvertrauen und ihre Entschlossenheit könnten dafür sorgen, dass sie weiterhin im internationalen Rampenlicht stehen. Die Vorfreude auf zukünftige Wettbewerbe ist hoch und die Sportgemeinschaft sowie die Fans können sich freuen, diese außergewöhnlichen Athleten auf ihrem Weg zur weiteren Exzellenz begleiten zu dürfen. Autor, Anita Faker, Mittwoch, 4. September 2024 La loro fiducia in se stessi e la loro determinazione potrebbero fare in modo che continuino a rimanere sotto i riflettori internazionali. L'attesa per le future competizioni è alta e la comunità sportiva, così come i tifosi, possono essere entusiasti di accompagnare questi straordinari atleti nel loro percorso verso una ulteriore eccellenza. Autore, Anita Faker, mercoledì 4 settembre 2024